Mi stiamo dicendo che il territorio è completamente in ginocchio? Era in ginocchio già da tanto tempo. Noi usciamo da un'annata, da un mercato che probabilmente in virtù di quello che sta vivendo tutto il mondo ha subito determinate contrazioni. Questo tipo di situazione che si aggiunge territorialmente, questa incapacità probabilmente nostra, strutturale, di poter difendere il nostro territorio, è indubbio che queste bombe d'acqua non sono prevedibili, però probabilmente adesso, dato che in questo nostro territorio abbiamo avuto le trombe d'aria, stiamo avendo questi fenomeni di precipitazione così intensi, probabilmente dobbiamo capire che dobbiamo investire di più in momenti estivi, nei momenti in cui probabilmente non si vede il ritorno immediato del nostro intervento, ma che possa difendere, diciamo, le nostre coste, il nostro territorio da questi fenomeni. Sta parlando del distesso idrogeologico che riguarda il nostro territorio. Sì, noi, è una situazione questa che deve essere fatta veramente con degli studi. Se noi pensiamo, perché lo stiamo qui a Crotone, che il piano Versace è stato fatto solo al 50%, e meno male, perché questa volta l'Esero non è esondato, quindi quel 50% è servito comunque a limitare, significa che c'è molto da fare in tutte le nostre contrate, anche quelle rurali, per poter difendere, soprattutto da una urbanizzazione un po' selvaggia che c'è stata nei nostri territori, dove si è andata a costruire in zone che probabilmente non avrebbero dovuto essere investite da cemento e da altre situazioni perché depresse rispetto al termine tecnico, rispetto al mare, rispetto a determinate situazioni morfologiche del territorio. Sta parlando anche della viabilità, che è in grande difficoltà la viabilità interna tra i comuni e la città capoluogo. E questo era già da tempo che abbiamo nella nostra provincia un'impresa molte volte arrivare nei nostri comuni, in periferia, diciamo, della nostra provincia. Sì, l'alluvione provoca sempre situazioni, tra l'altro tra noi poi c'è una grossa problema di competenze, di scarico tra le competenze, tra i vari enti, tra le varie situazioni. Bisognerebbe forse una volta per tutte mettere chiarezza, ma soprattutto, soprattutto è la cosa più importante, destinare delle risorse economiche verso la tutela di un territorio che è poi il patrimonio che abbiamo in questa nostra regione.